In questo video vedremo tre tra le principali teorie legate all'apprendimento multimediale. Innanzitutto, quando parliamo di apprendimento multimediale, occorre fare riferimento a un ambito più ampio, che è il cosiddetto apprendimento elettronico, che è quello che si attua attraverso strumenti elettronici come il computer, la tv, anche il web. È un ambito molto ampio e di quest'ambito noi prenderemo una parte, in particolare quello multimediale, l'apprendimento multimediale. L'apprendimento multimediale, come dice la parola, coinvolge più media, il che vuol dire che più forme di apprendimento possono essere coinvolte. Pensiamo alle immagini, ai suoni, ai testi scritti. Questo coinvolgimento può avvenire in maniera sincrona oppure asincrona e rappresenta un contesto a volte più congeniale per chi si trova in situazioni di apprendimento rispetto all'apprendimento tradizionale. Apprendimento multimediale non significa per forza nuove tecnologie. In realtà anche un testo con un'immagine naturalmente è un esempio di apprendimento multimediale. A noi naturalmente interesserà quello che coinvolge le nuove tecnologie, ma l'apprendimento multimediale non è sinonimo sempre e comunque di nuove tecnologie. Perché ce ne occupiamo? Perché l'apprendimento multimediale ha delle caratteristiche piuttosto diverse da quello tradizionale. In questo senso tre fra le maggiori teorie di riferimento che vedremo sono quelle della doppia codifica di Paivio, quella del carico cognitivo, Chandler e Sweller, e quella dell'elaborazione attiva. Fanno riferimento all'anni 90, a fine anni 90. Vediamo innanzitutto la prima, quella di Paivio, il 91. Secondo Paivio noi abbiamo due sistemi di codifica dell'informazione. Uno si attiva di fronte ad eventi verbali, cioè i cosiddetti logogeni. Un altro si attiva, contemporaneamente al primo, in base a degli eventi non verbali, quindi degli immagini. Contemporaneamente, quindi, noi, quando ci troviamo in contesto di apprendimento, attiviamo logogeni ed immagini. L'informazione e l'apprendimento risultano quindi più significativi, in base a questa nostra doppia codifica, secondo Paivio, quando essi, in qualche modo, collaborano. E questo, se ci pensiamo, è molto legato alla didattica multimediale, perché la didattica multimediale fa riferimento non solo al testo scritto, ma anche all'immagine e ai suoni. Quindi, questa teoria è una di quelle di maggior riferimento per chi si occupa di didattica e di apprendimento multimediale, anche se, come vediamo dall'anno, 1991, non nasce necessariamente in un ambito legato alle cosiddette TIC, cioè alle ITC, cioè le Tecnologie di Information Communication Technology. Altra teoria molto importante che chiunque di noi, più o meno informalmente, ha verificato è quella del carico cognitivo. Secondo questa teoria, le risorse cognitivi di chi si trova in un contesto di apprendimento sono limitate. Sono diverse per ciascuno di noi, in base all'età, al coinvolgimento, alla volontà, al momento, ma sono in ogni caso limitate. E quindi, tenendo presente questo, quando noi apprendiamo, dal momento che creiamo delle rappresentazioni mentali, parte delle nostre risorse sono destinate a creare queste rappresentazioni mentali. Quindi, se una parte di queste rappresentazioni ci vengono date, e quindi pensiamo, per esempio, a un docente che prepara delle slide, per esempio, allora noi liberiamo parte delle nostre risorse cognitive per destinarle all'apprendimento vero e proprio. Il caso contrario è quello del cosiddetto sovraccarico cognitivo. Vale a dire, se siamo in qualche modo aggrediti da tante informazioni, pensiamo a dei PowerPoint che forse chiunque di noi, almeno una volta, ha fatto, quelli cioè sovraccarichi di immagini, suoni, sfondi colorati, font diversi, questo rappresenta un sovraccarico cognitivo per chi si trova in un contesto di apprendimento. Questo sovraccarico, questo overload, fa sì che le nostre risorse cognitive siano troppo impegnate per la decodifica dei segnali e troppo poche ne restano per l'apprendimento in sé per sé. Ultima teoria di riferimento è quella dell'elaborazione attiva. Qui siamo nell'anno 2000. Questo è molto importante perché dice che l'apprendimento richiede sempre una partecipazione attiva da parte dello studente o comunque di chi si trova in un contesto di formazione. Questo significa, dal punto di vista dei docenti di scuola, che occorre sempre stimolare gli studenti ad elaborare una parte dei contenuti che vengano proposti. In un certo senso la teoria dell'elaborazione attiva di Meyer fa da contrattare al sovraccarico cognitivo detto prima. Cioè da un lato non occorre sovraccaricare di troppe informazioni gli studenti, e dall'altro occorre sempre, ecco l'elaborazione attiva, coinvolgerli nel mentre che forniamo contenuti. Questa elaborazione attiva, in un certo senso, fa riferimento a delle risorse che non sono sempre e per forza testi scritti, ma anche ultimediali, ambienti di apprendimento diversificati o personalizzati e ambienti che prevedano un continuo o comunque un frequente feedback. In un certo senso, quindi, anche una lezione frontale può rispettare, in qualche modo, i consigli della teoria dell'elaborazione attiva nel momento in cui il docente fa sì che ci siano dei feedback continui o comunque, ripeto, costanti durante anche e persino il momento frontale. Ora, queste tre teorie, assieme a molte altre, queste tre teorie hanno una provenienza sostanzialmente comportamentista e cognitivista, fanno riferimento al grande ambito della didattica multimediale, la quale dovrebbe concentrarsi soprattutto su un aspetto, quello della centralità di chi si trova in un contesto di apprendimento o, in maniera più semplice, centralità dello studente. La centralità dello studente non è una diretta conseguenza della didattica multimediale, però la didattica multimediale, grazie a degli strumenti che sono oggi anche propri dei cosiddetti nativi digitali, può, forse meglio di altre forme didattiche, favorire la centralità di chi si trova in un contesto di apprendimento. Naturalmente non ci sono solo vantaggi, ma essendo un ambiente nuovo e composito, al quale non siamo per forza tutti preparati, presenta vantaggi e svantaggi, e qui possiamo vederli rapidamente. Si possono personalizzare i processi di apprendimento, ma allo stesso tempo personalizzare può significare anche rendere dispersivo il lavoro in aula. Inoltre un altro aspetto indubbiamente positivo è la facilità con cui si riutilizzano dei materiali già creati, ma questo ha come contraltare il fatto di doverli creare, e quindi di richiedere tempi lunghi in una prima fase. Può naturalmente rappresentare una rivoluzione, nel senso tecnico del termine, della didattica, però dall'altro richiede una formazione inizialmente piuttosto impegnativa, e per certi versi anche un ripensamento della didattica, specie quella frontale. Dal lato dei costi non è negabile che ci siano inizialmente degli impegni finanziari, anche piuttosto ingenti, pensiamo anche a una conformazione d'aula con l'IM, per esempio, con connessione a internet, a cui non tutte le scuole possono fare riferimento. È infine una didattica che ha un certo fascino, che esercita, indubbiamente un certo fascino, sugli studenti, ma questo fascino spesso si traduce anche in un rischio di distrazione. E in ultimo, questo è un aspetto fra i più interessanti, genera delle competenze trasversali, che sono però molto spesso legate all'ambito informatico. Facciamo un esempio. Lavorare con i PowerPoint può generare la competenza trasversale di saper leggere e reperire un'immagine online, che è una competenza molto importante ad oggi, quella della cosiddetta media education. Però allo stesso tempo è una competenza piuttosto legata all'ambito informatico. Dunque, la conclusione, una prima provvisoria conclusione, può essere questa. La didattica multimediale è una grande occasione che non coincide con un hardware, non coincide con un oggetto. La didattica multimediale non vuol dire mettere in un'aula la LIM, mettere in un'aula la connessione ad internet, dare a ciascuno studente un tablet. Ma significa piuttosto ripensare la didattica tramite questi strumenti, e non con lo scopo di questi strumenti. Quindi, cioè, di creare un ambiente di apprendimento che sia nuovo, che metta il più possibile al centro lo studente, cioè chi si trova in un contesto di formazione, e che si serva, e quindi non sia servita, ai nuovi strumenti di comunicazione.